Massimiliano Di Cuia si candida al Consiglio regionale pugliese con Forza Italia a sostegno di Raffaele Fitto, Presidente. Di Cuia, le ragioni di questa sua candidatura, perché si candida? Mi candido perché credo che in questo momento di particolare difficoltà per la Puglia, in particolare per la nostra città, chi viene dal mondo delle professioni, chi è avvocato, io sono un avvocato civilista, chi viene dal mondo delle professioni, dal mondo del lavoro, chi ha un ruolo attivo nella società ha il dovere di impegnarsi per cercare di contribuire al superamento dello stallo che la Puglia ha vissuto negli ultimi 15 anni. Non dimentichiamoci che il centro-sinistra governa la regione da 15 anni, se mettiamo dentro il periodo di vendola che ha preceduto Emiliano e credo che in questo momento particolare nel quale c'è una proposta politica alternativa a chi ha governato la regione negli ultimi 15 anni, credo sia opportuno e doveroso che chi è in grado di esprimere idee e consensi scenda in campo per contribuire a un rinnovamento della classe dirigente. Grazie a tutti!